Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Oggi è uscito il primo trailer, in realtà teaser trailer ma un minuto e cinquantasei non lo chiamiamo teaser, di Echo, prossima serie Marvel Studios ad arrivare su Disney Plus per la primissima volta in blocco, tutti gli episodi, il 10 di gennaio. Non è che la attenda così tanto perché il personaggio di Echo non mi è piaciuto per nulla in Hokai, ma è stato detto che nel trailer appariranno sia Kingpin, questo era ovvio, ma anche Daredevil. Pure questo in parte ovvio, ma nel trailer magari no. Direi subito di iniziare, magari come sempre vi invito a lasciare un like, supportarmi anche sugli altri social, tanto i link sono tutti nella descrizione. Eccolo. Grazie. Speriamo venga trattato meglio di... in Hokai. Sto sorridendo, non dico che sia una cosa giusta, però sto sorridendo per un altro motivo. No, tranquillo. No, tranquillo. Tutta la roba del passato Vediamo Dai Matt Con la violenza Quello era Daredevil Mi è sembrato Daredevil quello Torniamo indietro un secondo Eh sì Eccolo qui A posto Sono contento così già Col costume rosso tra l'altro Non giallo Questo è il modo per farla diventare buona Sicuro Strano che non abbiano puntato sul Daredevil la figura intera comunque sullo schermo per più di un frame in movimento con un combattimento tra l'altro con quella che sembra essere appunto Echo o Maya Come ho detto durante la reaction sembra che ci sia tanta violenza molto più di quella che si vede anche in Moon Knight non lo so infatti anche per questo che la serie arriverà su Ulu c'è letteralmente un personaggio che spara in gola un altro e si vede tutto non è fuori campo Kingpin che picchia sangue e si vede una tizia palesemente morta con il sangue che le esce dagli occhi comunque sì ci sarà tanta violenza e sono curioso di vedere come la tratteranno ma vi informo che per me la violenza non è indice di qualità The Boys un esempio lampante Devo dire che sono curioso e non me lo sarei mai aspettato nei confronti di Echo Speriamo vivamente che la caratterizzino o meglio no in realtà che la caratterizzino perché quella cosa mancava in Okai e speriamo che cambino la caratterizzazione di Kingpin che appunto nella serie già citata diciamo non è esattamente il mio Kingpin preferito Detto questo ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo trailer se attendete la serie se vedrete tutti 6 5 non so avevano tolto un episodio ma erano solo rumor non saprei dirvi nel trailer non vi ho detto quanti episodi sono Fatto sta che appunto fatemi sapere se vedrete tutto in binge il 10 di gennaio La prossima settimana ci saranno gli ultimi prodotti Marvel del 2023 ovvero l'ultimo episodio di Loki e The Marvels che andrò a vedere E ragazzi vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao